Ehi, ma che fai? Scusami, non è che cercavo di condividere una foto? Donazione di organi e tessuti. Anche tu sei donatrice? Sì, ho appena rilasciato il consenso. Pensavo fosse difficile, invece è semplicissimo. Basta una dichiarazione quando rinnovi la carta d'identità. O con una delle altre modalità. Ma tu lo sapevi che il sistema italiano è proprio sicuro e trasparente al mondo? Lo so bene. Condividiamo? Adesso lo sai. Adesso puoi decidere. Grazie a tutti.